Le parole vengono spesso unite, mescolate, intrecciate insieme nei modi più diversi ed ecco che possono dare origine a un romanzo, a una novella, a un racconto, a una poesia breve, a un lungo poemetto. Dunque le parole in letteratura possono essere veramente disposte in mille modi e i generi e le forme sono tanti. In genere invece le immagini vengono unite solo attraverso due modalità. Il film che in pratica è la forma del romanzo, un inizio, una storia, uno svolgimento, un epilogo o il documentario che in realtà sarebbe la forma del saggio. Io ho provato ad unire le immagini non giocando su queste due forme, ma su delle modalità credo abbastanza inedite per il cinema. Ho chiamato questi miei componimenti film-poemi perché, come in una poesia, non è tanto importante la trama, la vicenda, ma l'atmosfera, la suggestione. Così in questi miei componimenti, in questo intreccio di immagini e parole, non è così importante la vicenda, che pure c'è, ma l'atmosfera, le suggestioni. Siamo dunque in un campo in cui le immagini dialogano con le parole secondo una forma che lattamente possiamo chiamare lirica.